Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Romeo rinuncia al tuo nome. Che cos'è un nome? Una rosa, una rosa anche con altro nome. Romeo rinnega il tuo nome. Cioè adesso perché ti vuoi incaponire così Romeo? Adesso entriamo in questa paranoia. Capule di Montecchi, Montecchi, Capule di Montecchi, una volta che possiamo dormire insieme, ci mettiamo a litigare sull'uccello. Poi c'è questo trip del frate che ci fa le pere, ci svegliamo in momenti diversi. Cioè ti prego Romeo, s'avvertiamo il finale. Grazie a tutti. Grazie.